Adesso saldino l'appuntamento con le 44 delle semifinali di Playoffs per il 28.16 Tra qualche istante, presentazione ufficiale del match Situazione in questa semifinale, dove manca marchi, uno, si resta fetticolano, due Signore e signori, è inutile e ricordiamo cosa dobbiamo fare tutti insieme Tutti insieme Grazie a tutti Grazie a tutti